Borse europee in rosso, la stagione delle trimestrali, non ha premiato francoforte affondata di due punti percentuali dopo il profit warning di Adidas. La maglia nera va però a Lisbona, che perde oltre tre punti, dopo che Banco Spirito Santo ha reso note perdite per oltre 3 miliardi e mezzo di euro. Madrid dal canto suo cede due punti a causa dell'esposizione delle aziende spagnole all'Argentina in default tecnico. Per l'Argentina la situazione sui mercati diventerà anche più difficile, non riusciranno più a rifinanziarsi. Gli investitori saranno sempre più prudenti e diventeranno restii a prestare denaro all'Argentina. Dopo un avvio positivo, anche Piazza Fari ha virato in rosso, con il Futsimib in calo di un punto e mezzo percentuale. Tra i titoli migliori c'è Generali, che nei conti registra un utile netto positivo, seppure in calo rispetto all'anno scorso. Passano sostanzialmente inosservati i dati macroeconomici, la disoccupazione nell'eurozona è calata all'11,5%, ma l'inflazione rallenta ancora. Grazie.